Ciao a tutti, come promesso sono tornata. Oggi mi piacerebbe spiegarvi meglio in che cosa consistono i Venerdì Piacentini. I Venerdì Piacentini sono la più importante manifestazione turistica e culturale che si svolge nella provincia di Piacenza. Non si stanno infatti in una serie di eventi che si svolgono nelle maggiori piazze della città. Questi eventi sono eventi di carattere musicale, artistico e culturale, quindi indirizzati ad un pubblico molto vasto. Quest'anno la manifestazione si dividerà in 5 eventi che inizieranno il 22 di giugno. Detto questo vi aspetto romani, sempre alle 14. Ciao a tutti da Becky Dixon.